Ciao a tutti, Alberto mi ha presentato bene e ha presentato bene me e la mia sezione e ci tengo a portare qui presente la nostra sezione in quanto è molto giovane. Noi siamo appena partiti e nonostante siamo appena partiti ci siamo molto soddisfatti dei risultati che siamo riusciti a raggiungere in quanto anche a tesseramenti. Teniamo innanzitutto a ringraziare Claudio Sacchetto che è quello che ci ha dato l'input per aprirla e ha fatto in modo che questo progetto vada avanti. Siamo una sezione giovane, il ragazzo siamo dai 20, io sono più giovane, ho 20 anni, andiamo fino ai 27 anni, siamo 8 ragazzi. Il nostro ordine del giorno è quello come ha spiegato Alberto sui trasporti. Quest'idea del trasporto ce l'ha data un nostro ragazzo alla sezione che è Simone Giorgetti. Io quindi starei a far parlare a lui perché visto che ha dato lui l'idea, lui la vive tutti i giorni. Parliamo dei treni, i treni che trasportano gli studenti da Cuneo a Torino tutti i giorni. Lui che è un pendolare per via degli studi, studia a Torino e la vive tutti i giorni, quindi ha passione e saprà dirvi bene quali sono i problemi. Quindi lo chiamo qua Simone Giorgetti.